Sono serenissimi perché ci renderemo nella sede successuale e un rinvio a giudizio per una proroga di un distacco di Calabria Verde di una persona che Calabria Verde avrebbe distaccato da un incumune del Bibonese a Calabria Verde, tra l'altro anche dipendente di Calabria Verde. Non credo che questo possa essere motivo di preoccupazione se un rinvio a giudizio per un problema che non voglio banalizzare ma per un problema che naturalmente non ha richiesto da parte mia nessuna violazione di legge perché non ho mai utilizzato la mia funzione per esercitare pressioni o per esercitare spinte oltre misure.